È terminato l'incontro, 2-0 per la Virtus Castelfrentano. È stata una bella gara, giocata da tutte e due le squadre. Bravo! Abbraccio a posto. Ciao! bravi ragazzi c'è pure un ragazzo del Casalbordino infortunato, non si è fatto male c'è anche Caran con la Piaccio ecco il nostro Michele autore della seconda rete direttamente sul calcio di punizione